grazie dai dai, ti went up ! NO 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 ma non è il mio amore oh dio spaghetti 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 e pizza che cos'era che cos'era oi so oi so oh c'è niente qua che cos'era che cos'era che cos'era che cos'era lol interrogation dove dove se che il è dett che che c ma che cazzo oh 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 cazzo beh io parlo se non mi sentite oh merda ahahah ma questa è sfiga boom ok ok perfetto anzi più che è toxic ai cancri no però se ne è entrato se ne è entrato un altro beh beh ora è speletro che ha caricato dall'altro buttate buttalo beh beh avanti un altro avanti un altro ciao Lijon vai c'è chi è che è un altro l'ha votato vai 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 easy voleva solo gioco oh spedete questo chi è che non l'ha votato eh no 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 oh sono dentro ancora tutti sono su sono su scale io ciao Twitch oh oh è lontano è un bambino guarda che latte scale scale guarda scale è sotto è sotto è sotto è 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 lì .